Ucraina aumentano i bombardamenti e gli attacchi di droni russi. Il presidente Zelensky sollecita più sistemi di difesa aerea. La Commissione europea propone di aumentare le tariffe sul grano russo e bialorusso che entra nel mercato comune del blocco. Timori per gli effetti sul mercato. I conservatori europei riuniti a Subiaco, siglata la carta di valore in vista delle elezioni, possibile apertura a Orban. Almeno 5 morti e 14 feriti. È il bilancio dei diversi attacchi russi in Ucraina. I raid che hanno investito le centrali elettriche hanno provocato un blackout diffuso nel paese. Gli attacchi hanno causato un incendio alla stazione idroelettrica del Dnipro che fornisce elettricità alla centrale di Zaporizia, il più grande impianto nucleare d'Europa. Le autorità dicono che per ora non c'è pericolo di un collasso imminente della struttura. Mosca parla di una rappresaglia in risposta ai recenti attacchi ucraini. Intanto i residenti nell'area del Dnipro reagiscono agli attacchi russi che hanno preso di mira le infrastrutture e anche le loro case. I bombardamenti russi hanno centrato un edificio residenziale a Kherson. Siamo in uno stato di guerra. Commentato il portavoce del Cremlino, Peskov, è iniziata come un'operazione militare speciale, ma quando l'Occidente ha deciso di partecipare a tutto questo a fianco dell'Ucraina, per noi è diventata una guerra. Questo venerdì le autorità russe hanno iniziato ad allontanare i primi bambini dalla regione di confine di Bielgorod, su cui nelle ultime settimane si sono intensificati gli attacchi aerei ucraini. All'inizio della settimana il governatore della regione, Gladkov, aveva annunciato che sarebbero stati trasferiti 9.000 minori e contestualmente aveva chiuso scuole e istituti superiori. È stato lo stesso Gladkov a pubblicare un video che mostra la partenza in treno del primo gruppo, 1.200 bambini che verranno ospitati nella città di Pensa, a quasi 800 chilometri dal confine. La città di Bielgorod è stata nuovamente bombardata venerdì mattina, causando la morte di una donna e diversi feriti. Sono state danneggiate le finestre di diversi appartamenti, di una casa privata e di quattro istituzioni sanitarie. Diverse auto sono state colpite o bruciate. Il comitato investigativo russo ha annunciato un'indagine sull'ultimo attacco e su altri attacchi mortali nelle aree occupate delle regioni ucraine di Donetsk e di Kherson. Dalla Commissione europea arriva la proposta di aumentare le tariffe sul grano russo che entrano nel mercato comune del blocco. La misura si applicherebbe a cereali semi oleosi e prodotti derivati come l'olio vegetale che provengono dalla Russia e sono destinati a essere venduti in uno dei 27 Stati membri. Dalla Commissione. 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 russo che l'anno scorso sono stati pari a 4,2 milioni di tonnellate per un valore di 1,3 miliardi di euro. La proposta, presentata il 22 marzo, deve ancora essere approvata dagli stati membri. A quasi sei mesi dall'inizio della guerra tra Israele e Hamas, i 27 stati dell'Unione hanno trovato un accordo su Gaza. Al Consiglio europeo in corso a Bruxelles hanno chiesto un cessate il fuoco immediato e durevole per affrontare la catastrofica situazione umanitaria nella striscia. Dopo appelli singoli in passato, l'unanimità è stata possibile grazie al superamento del beto ungherese. Grazie a tutti. Nella dichiarazione i leader dell'UE chiedono a Israele di aprire i valichi di terra con Gaza per far entrare più aiuti. Il corridoio marittimo appena aperto da Cipro infatti non può bastare. Il Consiglio ha anche discusso dell'uso del patrimonio russo sotto sequestro in Europa per armare Kiev. La decisione... La decisione... Il governo francese promette di dare la caccia agli autori degli attacchi informatici a 50 licei della regione di Parigi. Si tratta di messaggi con minacce di attacchi terroristici accompagnati da video di decapitazioni inviati a partire da mercoledì. La Procura di Parigi ha aperto un'inchiesta con l'accusa di accesso e utilizzo fraudolento di sistemi di elaborazione dati. Il Ministero dell'Istruzione sta fornendo supporto psicologico agli studenti che hanno visto i video con le decapitazioni. Minacce di questo genere mettono a repentaglio la necessaria serenità nelle scuole, ha detto il primo ministro francese Gabriel Attal, e sono inammissibili. Si è celebrata venerdì mattina a Roma la cerimonia commemorativa dell'ottantesimo anniversario dell'Ecidio delle Fosse Ardiatine, quando il 24 marzo 1944 i nazisti uccisero 335 persone come rappresaglia per la morte di 33 soldati tedeschi in un attentato partigiano avvenuto il giorno precedente. La cerimonia è stata presieduta dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, presente anche il ministro della difesa Guido Crosetto e i presidenti delle Camere La Russa e Fontana. Mattarella ha deposto una corona dall'oro sulla targa in ricordo dei martiri e la commemorazione è proseguita con un minuto di silenzio, la lettura del nome di tutte le vittime e un momento di preghiera, sia cattolica che ebraica. Un corteo colorato nella cornice di una Roma che ha ospitato 40.000 persone per la 29esima giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, organizzata da Libera. In marcia studenti, tanti, ma anche familiari delle vittime di mafia, sindaci, leader politici, sindacati, religiosi. La mafia oggi è più forte di ieri, oggi non uccide più, oggi le basta comprare, è potere economico e corruzione, la corruzione è l'arma più appuntita. A Bari ci sono 14 clan criminali, è vero che a Bari la mafia esiste, però è anche vero che a Bari c'è una città che resiste, che non piega la testa, che non gira la testa dall'altro lato, ci sono migliaia e migliaia di persone che fanno ogni giorno il loro lavoro onestamente e sono molte, molte di più dei criminali. Sul palco del Circo Massimo, prima dell'intervento conclusivo di Don Luigi Ciotti, sono stati letti i nomi delle oltre mille persone innocenti uccise dalle mafie. La presentazione della Carta dei Valori Conservatori è stata l'occasione che nella giornata di giovedì ha visto riunirsi gli eurodeputati del gruppo ECR a Subiaco, poco fuori Roma. La città simbolo delle memorie benedettine ha fatto da cornice all'evento che puntava soprattutto a sottolineare il legame tra il santo che con la sua regola ha contribuito a preservare la tradizione classica e i principi del conservatorismo europeo. E con i sondaggi a favore in gran parte d'Europa, il manifesto ha segnato una tappa decisiva nella corsa alle elezioni europee. Gli errori commessi dall'istituzione europea negli ultimi cinque anni hanno generato una reazione avversa, è la riscossa del buonsenso che noi auspicavamo, che si è già manifestata attraverso tutte le elezioni nazionali che si sono svolte negli ultimi cinque anni. Presenti diversi eurodeputati dei vari partiti del gruppo, tra cui una delegazione spagnola di Vox, secondo cui la condivisione di valori supera le differenze. Per il co-presidente di ECR Procaccini tutto ciò è possibile anche con il partito di Viktor Orban. Ha approvato tutte le sanzioni che sono state fatte al regime russo, che ha sostenuto il finanziamento della resistenza della popolazione ucraina, ovviamente ha anche un suo punto di vista, ma comunque ha dimostrato di essere compatibile con l'architettura europea. Oggi chi vuole in qualche modo demonizzarlo lo fa semplicemente strumentalmente perché ne ha bisogno di separare il campo avverso per poter vincere. Ma soprattutto le prossime elezioni per l'eurodeputato di Fratelli d'Italia rappresentano un momento storico per l'Italia con Giorgia Meloni sia capo del gruppo ECR che del governo. Giorgia Orlandi, Euronews, Subiaco.